Questi vecchietti, questi quattro vecchietti, molto tra virgolette, hanno fatto storia e continuano a farla, mi sto riferendo a Eddie Purple che il 7 agosto faranno uscire Woosh, oggi hanno rilasciato Man Alive, il loro secondo singolo, io già ho i brividi Sunsets in the west Boy has gone to rest Mama clutched her breast Musica Musica Grazie a tutti. 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 Allora, il discorso di chi continua a fare storia è che purtroppo, e questo purtroppo è da prendere tra virgolette, che quando musicisti del genere, è che quando musicisti del genere prendono degli strumenti, fanno impallidire qualsiasi band davanti a loro. sono dei mostri, sono dei mostri sacri della musica che nonostante la loro età continuano ad essere avanti, avanti e avanti anni luce rispetto ad altri. A me la cosa che mi dispiace è che purtroppo i Led Zeppelin non hanno più continuato a suonare, altrimenti sarebbe stato un bel, un grande scontro tra due potenze del genere.